Buongiorno, Katrina. Buongiorno, comandante Whitaker. La lista passeggeri, 102 persone a bordo. Bene, siamo pronti per il decollo. Come ti senti, Whip? Sembra che tu abbia fatto un atterraggio straordinario. Hai salvato molte vite. Bravo! Stiamo perdendo quota. Non hai il controllo dei comandi? Posizione di sicurezza. Il tuo atterraggio è stato un vero miracolo. Vedo solamente cose! Evans, punta il muso verso il basso. Ha cominciato a perdere pezzi a 30.000 piedi. Dobbiamo girarci, ok? Cosa vuol dire girarci? C'è pronto, ci siamo. Sono in lista, bambolina. È pieno di stampa impazzita là fuori. Ormai sei una rockstar. Non pagherai mai più da bere per tutta la tua vita. Il comandante Whitaker è un vero eroe. Hugh Lang, un avvocato di Chicago. A cosa mi serve un avvocato? Non ricorda l'esame del sangue di quella notte? Hanno trovato tracce di alcol. Può significare l'ergastolo. Prudenza preliminare tra dieci giorni. Signor Whitaker! È nell'occhio del ciclone. Sta nascondendo qualcosa. Vuole spararmi? O posso entrare? Sì, venga pure. Le sparo appena entra. È stato il volere di Dio. Quale Dio può volere questo? La nostra inchiesta ha stabilito che si è trattato di un guasto. L'agenzia per la sicurezza ha messo dieci piloti nei simulatori e ha ricostruito l'incidente. Non si è salvato un solo passeggero. Lei è l'unico che ci ha riuscito. Hai salvato mia mamma. Vorrei parlare dei giorni che hanno preceduto l'incidente. Questa storia finirà per uccidermi. Fatemi! Chi sei? Ho bevuto prima del volo. Whitaker sa che andrà in prigione. I miei clienti non ci vanno. È una bugia, Whip. Una bugia. Voglio salvarle la vita. Quale vita? Ma andiamo perso il controllo! Pronti all'impatto? Nessuno avrebbe potuto fare un atterraggio come il mio.